Dobbiamo mantenere alta l'attenzione per la possibile diffusione di queste che sono le nuove varianti, ma soprattutto la variante Delta. Secondo le previsioni che vengono fatte anche a livello europeo, l'ICDC dice che entro la fine di agosto il 90% dei paesi europei potrebbe circolare in tutti i paesi la variante Delta. Abbiamo ricevuto una circolare venerdì o sabato da parte del Ministero dove praticamente ci dice che ci sono alcuni paesi, tra cui la Finlandia, i Paesi Bassi e anche la Spagna, dove ci sono stati riscontrati dei focolai importanti. Questi focolai sono stati legati soprattutto in Finlandia, per esempio, al fatto che ci sono state delle manifestazioni sportive, il discorso degli europei, eccetera. In Spagna, soprattutto a Mallorca.